Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza, viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. Ritornano anche quest'anno le attività di formazione dell'Associazione di Volontariato Mani Amiche, con sedia a Cava dei Tirreni, che ormai da anni, con le sue ambulanze, si occupa del prezioso servizio di trasporto degli ammalati. Per tutti gli interessati parte domani il 35esimo corso di primo soccorso ed educazione sanitaria. L'iniziativa è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I desiderosi di apprendere innanzitutto teoricamente, per poi cimentarsi anche nella pratica, su come eseguire gli interventi di base e di pronti interventi, che talvolta in situazioni di emergenza si rilevano decisivi, sono ancora in tempo per presentare la domanda di iscrizione presso la sede dell'Associazione Sita in Corso Mazzini, ovvero all'ex-Ompi di Cava dei Tirreni. Previste due lezioni settimanali, che saranno tenute da medici specialisti ospedalieri, supportati dai volontari di Mani Amiche. Al termine della prima fase teorica è in programma un tirocinio, che vedrà i corsisti impegnati in esercitazioni, nel corso delle quali potranno mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni. Anche quest'anno inizia questa meravigliosa avventura del corso di formazione, che potrà dare accesso a nuovi volontari. Il corso infatti parte domani, un appuntamento conoscitivo alle ore 17, verso la nostra sede in Corso Mazzini, all'ex-Ompi di Cava dei Tirreni. L'appuntamento di domani sarà incentrato un po' su un incontro informale con tutti i nuovi partecipanti che hanno già dato adesione, nel quale in effetti spiegheremo un po' le varie attività e come sarà articolato il corso. Il corso comunque sarà articolato in due lezioni a settimana per una durata di un mese o un mese e mezzo la parte teorica, poi comincerà una parte pratica di tirocinio per e proprio insieme a tutti i volontari. I temi trattati sono incentrati su educazione sanitaria in generale, formazione al primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, manovre di movimentazione di un po' di traumatizzato e rinnovo l'invito a quanti ancora non avessero avuto modo di fare la domanda di adesione, di poter anche venire domani direttamente alle 17 in sede e iniziare questa meravigliosa e splendida avventura per portare un po' di sollievo e beneficio alle tante persone che chiedono il nostro aiuto. Grazie a tutti.